Musica On the farm, every friday, on the farm, it's rabbit pie day, so every friday that ever comes Questa sera continuiamo questo percorso che va avanti oramai da quattro incontri, che sarà di sette, in cui già tanta carne al fuoco l'abbiamo messa e continueremo a metterne, continueremo a metterne sempre di più. Sempre, come ho ribadito le altre volte, a sostegno delle tesi che portiamo ci sono documenti e questa è la cosa più importante. Perché sempre viene chiesto, ma su quali basi, su quali fonti tu puoi raccontare queste cose, noi le fonti ne abbiamo belle grosse anche. Allora, trovare materiale per sette conferenze non è complicato, ma è complicato creare un filo logico che le tenga tutte quante legate. Quindi questa sera faremo un percorso completamente inedito su Leonardo da Vinci e Alessandro Manzoni, tutte e due legati alla città di Firenze, tutte e due legati alla città di Lecco, che è la mia città, Tutte e due legati a una sorte francese, come Annie. E quindi c'è un percorso che è non solo, come posso dire, nominale, ma effettivamente anche sotto un profilo sostanziale. C'è un parallelismo fra questi due personaggi molto importanti per la nostra cultura, che va ben oltre quello che si può immaginare. E quindi ho chiamato questo viaggio, un viaggio inconseto, tra donne gioconde e promesse e spose, facendo riferimento ovviamente a quello che entrambi hanno rappresentato. Siccome non tutti avete assistito alle conferenze precedenti, facciamo un piccolo riepilogo. Allora, abbiamo detto che Leonardo è un mito di carta pesta fondato su presunzioni sommarie. Presunzioni che sono dettate volutamente per distrarre quello che era il vero lascito culturale di Leonardo, che era il neoplatonismo, erano le teorie arrivate a Firenze con il concilio del 1438, quindi tutte quelle conoscenze che arrivavano dal mondo bizantino, dal mondo neoclassico greco e che erano parzialmente scomode per il mondo cattolico dell'epoca. E quindi attorno a Leonardo è stato costruito questo personaggio che è la caricatura di se stesso, di fatto. Cioè quel personaggio che oggi tutti quanti noi celebriamo e che per me crea una fatica esistenziale notevole, perché man mano che passano i giorni si assommano poi le celebrazioni fondate sul nulla. E quindi è sempre più difficile per me contrastare tutto questo, come posso dire, fluvio infinito di porcherie che vengono raccontate. E quindi diventa sempre più difficile poi invece dare dei contributi che siano dei contributi forti, sostenibili. Quindi la caricatura di ciò che realmente Leonardo fu ci consegna un personaggio autodidatta, geniale, scostante, omosessuale, vegano, inventore, pittore, tutto quello che solletica l'immaginario della gente comune. Quindi si tende a dare un personaggio che arriva alla pancia della gente, ma non deve arrivare alla testa della gente. Questo perché tutto quello che lui raccontava era fastidioso per il mondo cattolico. L'esempio più eclatante è questo passaggio, che è una testimonianza diretta che Leonardo ci lascia relativamente a un suo sogno infantile. E lui scrive, Questo scriversi distintamente del Nibbio par che sia mio destino, perché nella prima ricordazione della mia infanzia, e mi parea che, essendo io in culla, un Nibbio venisse a me e mi aprisse la bocca con la sua coda, e molte volte mi percotessi con tal coda dentro le labbra. Questa narrazione, questo ricordo infantile di Leonardo, viene analizzato da Freud. Freud vive un momento estremamente difficile della sua esistenza, e dopo un viaggio fatto in America, decide di, come posso dire, riprendere un po' il lume della ragione, e si butta a capofito nell'analisi a distanza, per ovvi motivi, di Leonardo. Quindi scrivendo a Jung, fa quest'analisi su Leonardo, in relazione a questa testimonianza lasciata. E Freud riconduce l'episodio narrato da Leonardo ad un atto sessuale, orale, marcatamente passivo, reminiscenza della memoria dell'allattamento. Quando gli psicologi ci si mettono, o i psicoanalisti, peggio ancora, creano dei dissesti infiniti. Peggio ancora, chi poi gli dà retta. Allora, l'avvoltoio, nell'antichità, era considerato di specie femminile, fecondato dalla forza del vento, diventato simbolo, per i cristiani, della nascita di Cristo, concepito da una vergine. E, in funzione di questo, Freud sviluppa la sua analisi sul giovane Leonardo. E quindi, di fatto, racconta che Leonardo sviluppa la sua passività sessuale, la sua omosessualità, in funzione di questo ricordo infantile. Associando al fatto che scopre che la madre non ha un pene, e quindi, rimanendoci male, ritrova questa mancanza in tutti i giovani modelli di bell'aspetto, che poi avrebbe frequentato crescendo. Questo è come è nata la diceria sul fatto che Leonardo fosse omosessuale, cosa che non è. A supporto di questa, come posso dire, di questa deriva associativa, questo disegno di San Giovanni Battista, che nella trasposizione cristiana, ripeto, è, ricordo essere il sole al 21 giugno, quindi nel sostizio d'estate, il fatto che Leonardo disegni San Giovanni Battista con un membro eretto, eleva ancora di più un giudizio di deviazione sessuale in capo Leonardo. Ma tutto nasce in funzione di quell'analisi sbagliata che fa Freud. in realtà l'analisi sbagliata non è di Freud, ma è di chi ci consegna quell'analisi di Freud. Perché Freud dice che è vero che è un atto sessuale, orale, marcatamente passivo, reminiscenza della memoria dell'allattamento, oppure rimanda all'immagine egizia della Dea Madre Mut, raffigurata come uccello a voltoio. La Dea Madre Mut è la riproposizione nel mondo egizio della Dea Madre di tutte le altre culture, compresa la Vergine Maria, quindi colei che genera per partenogenesi. i collegamenti che Leonardo ha col mondo egizio sono infiniti. Ve ne ho già fatto vedere qualcuno nelle volte scorse, questo è rappresentato qui alla mostra sul Verrocchio, Raffaele Tobbiolo, che rimanda in realtà anche alle origini biografiche di Leonardo, perché essendo lui figlio della congregazione della misericordia, Tobbiolo è un rappresentante di questa congregazione, ma unicamente per farvi vedere che i collegamenti con il mondo egizio in Leonardo sono tantissimi. Sono talmente tanti che quando lui disegna la Vergine delle Rocce cambia l'iconografia dando origine a un'iconografia nuova che poi verrà copiata da tutti quanti, dando alla Vergine e all'Angelo la forma del Nibio che è una formazione rocciosa che c'è sopra l'ecco, chiaramente riferendosi al Nibio a voltoio dell'episodio appena raccontato. Quindi quando Leonardo scrive questo suo ricordo infantile in realtà si sta riferendo al rituale dell'apertura della bocca che è un rituale egizio della vita continua quindi della vita perenne dove lo strumento che veniva utilizzato ricordava effettivamente la coda di un Nibio e Min è il dio della fertilità come San Giovanni Battista è il dio della fertilità nel mondo cattolico quindi quell'immagine col membro eretto in realtà è un rimando a questa condizione spirituale superiore non materica quindi questo è come nasce quella mistificazione su Leonardo io sorrido quando mi chiedono quali sono le mie fonti perché poi mi viene chiesto da chi invece accetta delle storielle completamente inventate quindi questo è unicamente il modo per farvi capire come di fatto Leonardo è una caricatura di se stesso ed è una caricatura che viene continuamente alimentata i giorni scorsi c'era la storia della ciocca di capelli di Vezosi che abbiamo già detto essere una caduta di stile e forse anche di intelletto infinita ma addirittura ogni tanto si vuole attribuire a Leonardo delle impronte digitali che si trovano sui disegni o nei dipinti che non sono chiaramente riconducibili a Leonardo uno perché non abbiamo la sua impronta originale e due perché sono comunque sempre delle impronte parziali ma questo ci dice come l'attenzione verso Leonardo sia speculativa morbosa non sia legata a conoscere quello che effettivamente lui ci sta consegnando e la degenerazione più totale viene trovata da questo personaggio a cui dieci giorni fa prendendolo sotto gamba sotto braccio ho detto che non voglio litigare con lui ma prima o poi uno scontro ci sarà che descrive e l'ha fatto al salone dei 500 la gioconda come un puttanone che è l'aberrazione più totale è veramente l'abbruttimento intellettuale culturale che stiamo vivendo salvo poi andare in giro per teatri raccogliendo il pienone ogni volta e nelle locandine mettendosi nei panni della gioconda quindi chissà Freud cosa avrebbe detto di questa associazione no? però indipendentemente da questo che è chiaramente un gioco ma fino a un certo punto ricordando Dante qua Firenze è facile perché è tutto qua Dante Leonardo il rinascimento considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come brutti ma per seguire virtute e conoscenza quindi almeno da me quello che continuerete a sentire è una cifra alta volta a conoscere Leonardo nella sua essenza non in quello che è un gossip o la necessità di fare cassetta c'è stato un bellissimo intervento al Salone 500 da parte del del presidente della del degli industriali di Confindustria che ha detto bisogna tornare a pensare ai progetti alla sostanza e non al tornaconto e questo è una considerazione importantissima soprattutto nel momento in cui parliamo di modelli culturali come Leonardo e di modelli culturali che poi vanno a a finire in mano a le nuove generazioni che su questi modelli costruiscono il proprio futuro quindi bisogna tornare a imparare a vedere ciò che dinanzi agli occhi sta come suggeriva Goethe non a caso Goethe io lo ricordo sempre ma perché era amico intimo di Manzoni tanto che a tutti i costi volle dare un suo contributo nella traduzione dei promessi sposi e vedremo come tutti questi riferimenti piano piano tornano e ritornano sempre e comunque abbiamo detto che dobbiamo imparare a vedere ciò che dinanzi agli occhi sta la cosa più difficile di tutte come suggeriva Goethe abbiamo già in dieci immagini parlato di Goethe Leonardo Manzoni astrofisica Mozart Michelangelo Lucia Mondella la regina della notte l'antico Egitto in cinque immagini chiaramente non essendo abituati a associare questi personaggi o queste correlazioni ci passa tutto sotto il naso perché questo è quello che sta succedendo oggi nella nostra società invece bisogna imparare a guardare nella profondità bisogna studiare quindi abbiamo detto che Leonardo è un mito di catapesta fondato su presunzioni sommarie non solo Leonardo il rinascimento lo è la storia che noi viviamo lo è e bisogna imparare a riconoscerla per tornare ad amarla e per tornare a creare la nostra vita in funzione di questo questa deriva è stata iniziata progettata se vogliamo dire così da Pio II Enea Piccolomini Siena che col concilio della dieta che si è tenuto a Mantova mentre a Firenze si teneva il corteo dei magi che celebrava gli sforza e tutte le varie famiglie alleate col concilio della dieta Pio II inizia un forte periodo di restrizioni che poi sfocerà nelle inquisizioni che poi sfocerà nelle destituzioni di alcuni personaggi mi viene in mente ma la testa i medici cambiano completamente la propria natura e diventano filo cattolici quindi Pio II è colui che ha progettato questo profondo cambio radicale nella nostra storia culturale e economica fattivamente gli artefici però sono un secolo dopo nel 568 Pio V e Cosimo I Pio V è grande inquisitore è il fondatore dell'index librorum proibitorum quindi è colui il quale ha stabilito cosa potesse essere letto e cosa invece non doveva essere letto questa che è un'aberrazione è andata avanti fino al novecento inoltrato tanto per dire quanto comunque la nostra storia è stata fortemente condizionata da questi elementi Cosimo I invece è il ramo cadetto della famiglia dei Medici è colui il quale ha spostato la residenza medicia da palazzo Medici Riccardi a palazzo Vecchio e che con il ramo principale della famiglia dei Medici non aveva propriamente un ottimo rapporto quindi quando Vasari nel vite scrive riscrive la storia di Leonardo da Vinci con la licenza e il privilegio sia di Pio V e del duca di Firenze di Siena quindi di Cosimo I fa una descrizione leggermente artefatta e soprattutto scrive una frase composta da pochissime parole che determina il corso di quello che noi oggi assumiamo erroneamente su Leonardo da Vinci veramente mirabile e celeste fu Leonardo figliolo di Ser Piero da Vinci questo viene scritto nel vite da Vasari nel 1568 con la licenza di Pio V per più di tre secoli si ritenne che Leonardo fosse nato attorno al 1440 questo tutti i suoi biografi De Pagave d'Alberville Vasari perché più volte si ricorda che quando lui morì morì più che oltre settantenne solo nel 1746 in funzione di quella frase che abbiamo appena letto Giovanni Battista Dei interpretando una nota scritta in un archivio di Firenze dal presunto nonno di Leonardo suggerisce la data del 15 aprile 1452 su una mera presunzione cioè che Leonardo fosse il figliolo di Ser Piero da Vinci e non c'è nessun elemento che lo certifichi il problema loro di chi mistifica la storia è che del vite esiste una versione precedente ma non solo esiste una serie di documentazioni che sono quelle che poi mi vengono continuamente richieste per cercare di smontare le cose che propongo che la ricostruzione ufficiale fa acqua da tutte le parti non ve l'ho ancora detto l'ho annunciato ieri e stamattina la tesi finale di questa serata è che la Gioconda non è la Gioconda cioè quel quadro che in Francia tutti stanno celebrando e celebrano da una vita non è la Gioconda aggiungo una cosa che non avevo programmato visto la presenza di Annie e di Anna giusto Leonardo è un De Medici è fratello di Lorenzo De Medici quindi è prozio di Caterina De Medici la regina madre questo l'ho mostrato e specificato ampiamente sempre a livello documentale la volta scorsa oggi ve lo ripeto per vostro beneficio ma poi sicuramente ci sarà modo di ribadirlo a livello documentale quindi abbiamo detto che esiste una versione 18 anni precedente al vite che abbiamo visto fino adesso da questa versione quella frase riferita alla paternità del Notaio Invinci diventa una frase ribadita cinque volte per cui il Notaio Invinci è zio di Leonardo una sorta di tutore la madre non è più una schiava ma è una donna di buon sangue è una torna buoni Leonardo morì ultra 75enne quindi torna a essere nato nel quarto decennio del quindicesimo secolo per l'esattezza il 4 luglio 1442 come rappresentato dallo zodiaco che c'è in San Lorenzo nella Sacrestia Vecchia mausoleo della famiglia e in effetti un Giovanni dei Medici nasce nel 42 e poi le cronache lo perdono di vista e nel 1465 era a Milano già come celebrato musicista e pittore questo è il motivo per cui il Verrocchio non era maestro di Leonardo quindi quando fanno quella bellissima mostra che adesso c'è al Bargello resta una bellissima mostra ma nella sostanza non esprime il fatto che Verrocchio fosse maestro di Leonardo l'attendibilità delle fonti a seconda del modello culturale cattolico ebraico musulmano conta per ritenere una cosa veritiera oppure no chi l'ha detto dove sta scritto chi l'ha detto io me l'ha detto il Papa io l'ha detto il mio professore di storia eh no allora vediamole queste fonti l'unico che ha modo di conoscere Leonardo e parla della sua età è Antonio De Beatis segretario del Cardinal Luigi d'Aragona che va a trovare Leonardo a Amboise in Francia il 10 e 11 ottobre del 1517 Leonardo era appena arrivato a Amboise e racconta andiamo a visitare il Messer Leonardo Da Vinci Fiorentino vecchio di più di 70 anni è l'unico che lo conosce in realtà non è l'unico perché adesso ne vedremo un altro pittore eccellentissimo dei nostri tempi che mostrò a sua signoria illustrissima tre quadri uno di una certa donna fiorentina fatta al naturale a richiesta del fu magnifico Giuliano De Medici quindi non può essere la moglie del Giocondo e non è la Gioconda però vogliamo dei documenti un po' più sostanziosi non delle battutine così un altro testimone diretto è Benedetto Dei che è l'ambasciatore della famiglia De Medici la persona che lo mette in contatto con tutto il mondo turco francese americano perché è chiaro che in America ci siamo andati molto 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 prima di Colombo che non esiste sì con me è un po' così è un po' tutto diverso da come si è soliti pensare ok Benedetto Dei nel cronache che è una sorta di resoconto della sua vita dei suoi incontri che è depositato alla laurenziana scrive sono stato a Milano l'anno che Francesco Sforza l'ha preso con la spada in mano e tornai con i medici di fatto sta facendo riferimento a due momenti precisi 1449 e 1465 il 1449 è il momento in cui Francesco Sforza sconfigge l'esercito veneziano alla rocchetta di Airuno che è nei pressi di Lecco al di là dell'Adda che faceva da confine fra il Ducato di non era ancora il Ducato di Milano però tra Milano e Venezia e c'è proprio nella rocchetta una targa che celebra questo evento poi il fatto che lo sfondo della gioconda sia lo stesso che si vede dalla rocchetta di Airuno e che attorno alla gioconda ci sia un muretto e due colonne che sono molto simili alle colonne della rocchetta di Airuno in questo momento poco importa però intanto ve la butto lì l'altro episodio 1465 è certificato non solo dal Vasari ma anche che sottolineo è vissuto un secolo dopo Leonardo ma da Benozzo Gozzoli che rappresenta a San Gimignano il momento in cui i tre de' Medici Leonardo Giuliano e Cosimo e scusate Lorenzo in compagnia di Giovanni Bentivoglio che era amico fraterno di Leonardo si stanno avviando verso Milano 17 aprile 1465 questo è un viaggio documentato Benozzo Gozzoli è quello che ritrae la Cappella dei Magi in cui tutti i personaggi citati sono nuovamente ritratti se voi andate a Milano lei è di Milano in questi giorni il Comune ha deciso di restaurare una casa che c'è in Corso Magenta 29 a cui si accede ho scoperto recentemente perché io ogni volta entravo da Corso Magenta da una vietta laterale perché ci sono dei giardinetti pubblici mi viene la pelle d'oca perché c'è questa casa che è la casa in cui la famiglia De Medici sostava quando andava a Milano a trovare gli Sforza per la prima volta dopo una decina di volte che entravo proprio perché hanno iniziato i lavori ho potuto vedere cosa c'è dentro c'è una replica del Cenacolo con degli affreschi alle pareti adesso io non so al Comune di Milano cosa avranno deciso di fare se sanno effettivamente quello che hanno in mano e spero di riuscire a essere coinvolto in quello che succederà anche perché all'inizio di ottobre avrò un importante evento proprio indetto dal Consiglio della Regione Lombardia a Milano a Belvedere con D'Averio con Marani se accetterà di confrontarsi con me e sarebbe una bellissima cosa però nel frattempo sarebbe bello che si riuscisse a capire cosa c'è qua dentro quella mera presunzione che Leonardo nasce nel 52 perché è figliolo di Ser Piero da Vinci viene negata da altri documenti quello che vediamo sopra si riferisce ancora a Benedetto Dei che il 15 giugno del 1480 cioè due anni prima di quando si fa risalire la salita di Leonardo a Milano fa l'elenco dei mercanti e artisti fiorentini che nel corso della sua vita ha portato a Milano tra questi Leonardo da Vinci dipintore e Atalante della Viola è risaputo che Leonardo arriva a Milano come rinomato musicista quello che nessuno sa per cui laddove dovessimo fare un evento mi piacerebbe coinvolgere anche Benigni è che Leonardo era eccellente declamatore di Ottave in Rime che è quel modo tipico dei toscani di canzonarsi uno con l'altro e probabilmente ho trovato anche una di queste ottave con cui lui intratteneva gli ospiti dei banchetti nuziali visto che di quello si parlerà la stessa cosa viene ribadita ma con un elemento in più nell'anonimo gaddiano che non è una persona ma è un testo chiamato anche Codex Magliabecchiano che anticipa di dieci anni la prima versione del vite di Vasari in cui si fa riferimento non solo al fatto che Leonardo fu mandato dal duca di Milano che nel caso di specie è Francesco e non Ludovico quindi prima del 65 ma ci dà un elemento in più tornò poi a Firenze dove rimase per lungo tempo ma più tardi forse a causa di vessazione o altra causa cioè fa riferimento all'accusa di omosessualità e sodomia di cui Leonardo è stato investito ma che non corrisponde a realtà ma corrisponde a tutti quegli eventi collegati alla congiura dei pazzi per cui i medici ne hanno sofferto gli sforza ne ha sofferto Leonardo in quanto medici ne ha sofferto Simonetta Cattaneo Vespucci ne ha sofferto ovvero tutti quelli che hanno partecipato ai viaggi in America partì mentre stava lavorando alla Camera del Consiglio e tornò a Milano dove rimase per diversi anni il servizio del Duca quindi Leonardo come è in tutti gli altri documenti va a Milano prima del 70 torna a Firenze qua è costretto a riscappare ma è costretto a riscappare mentre sta lavorando alla Camera del Consiglio ovvero al Salone del 500 quella famosa battaglia di Anghiari che non è la battaglia di Anghiari ma è la battaglia di Colle e Valdelsa Leonardo ci lavorava già negli anni 70 ripeto sono documenti come ho detto le altre volte non sono documenti che io ho nella mia soffitta a cui accedo sono documenti che sono accessibili a tutti soltanto che sono documenti fuori di quel mito di cartapesta con cui Leonardo lo si vuole costruire e celebrare quindi cosa succede? succede che Leonardo ha trascorso a Milano la maggior parte della sua esistenza Leonardo arriva a Milano giovanissimo ricordo per il signore che è arrivato in ritardo che no non per colpa sua cioè non volevo essere io pure volevo essere Leonardo nasce nel 42 arriva a Milano vedremo attorno al 47 48 49 comunque giovanissimo bimbissimo trascorre la maggior parte della sua vita a Milano tanto che quando muore Adam Boas nel 19 per cui quest'anno dobbiamo soffrire tutto quello che stiamo soffrendo Francesco Melzi nel certificato di tumulazione fa scrivere ed è scritto nobile milanese alla faccia della querelle Leonardo è francese no? è italo-francese perché Mattarella ha dato a sui certificati di tumulazione c'è scritto nobile milanese premesso che Leonardo è patrimonio dell'umanità è legittimata come affermazione proprio in virtù del fatto che Leonardo trascorre la quasi totalità della sua esistenza nel Ducato di Milano Sera Massimo tanto che prima vi ho detto che il Verrocchio non è maestro di Leonardo questa è la vocazione dei primi apostoli probabilmente tutti questi giovanetti Leonardo Ghirlandaio Botticelli Verrocchio che con Leonardo è quasi coevo vengono mandati a Milano per sfuggire al concilio della dieta di Pio II e creare una sorta di nuova accademia neoplatonica e portare così in salvo tutto quel sapere che altrimenti sarebbe finito nelle sgrinfie della chiesa e quindi non avrebbe avuto modo e titolo di svilupparsi come poi si è sviluppato cioè noi oggi celebriamo Platone Eraclito Euclide eccetera eccetera e lo dobbiamo a questi tanto che la Lombardia e questo è uno dei motivi per cui ci sarà quell'incontro è pieno è piena di testimonianze di questa scuola che ricordano Verrocchio ricordano Botticelli ricordano Perugino questa non so se siete andati a vederlo a Palazzo Marino Natale è l'annunciazione questa è l'annunciazione del Perugino e questa è un Cosma e Damiano cioè i medici in una chiesa in una chiesetta del triangolo lariano è Leonardo piccolo inciso perché poi Leonardo era talmente conosciuto alla sua epoca che ci sono ritratti di lui di qualunque età ovunque e ci sono testimonianze dove non dovrebbero esserci ovunque proprio da noi allora ogni tanto mi beo del fatto che sono a Firenze e parlo del Firenze oggi che però parlo del lago della Lombardia mi beo del fatto di avere dei Lombardi un po' strana questa cosa comunque è pieno di testimonianze a giustificare il fatto che Leonardo ma tutti gli altri vengono mandati presso il Ducato degli Sforza a studiare questo è il Battesimo di Cristo del Verrocchio che apprende la prima commissione pittorica nel 1468 quando Leonardo nel 1465 arriva a Milano come già famoso dipintore e musicista questo mi permette di dire una cosa subito prima che la perda esistono codici scritti da Leonardo che vanno da un periodo compreso fra il 1478 e il 1500 erotti e dal 42 al 78 cosa faceva le parole crociate voi prendete un disegno di Leonardo non i libricini che si trovano alla Tribuziana o a Parigi uno dei fogli che ci sono alla Royal Collection di Windsor sono fogli singoli sono impossibili da datare però quello che poi deve fornire le prove le fonti sono sempre solo io allora queste sono tutte rappresentazioni che rimandano a quella di prima del Verrocchio che c'è la partecipazione di Botticelli c'è la compartecipazione di Leonardo nei due angioletti Leonardo non sapeva dipingere assurdo che uno che sapeva già dipingere un'annunciazione vada a scuola di pittura del Verrocchio questo è un manoscritto miniaturato degli Sforza dove si vede il castello Sforzesco e sullo sfondo la città di Lecco col San Martino questa è la città di Lecco in una stampa dell'Ottocento questo è il ghirlandaio con Lecco e il San Martino alle spalle questo è il perugino con l'Adda Lecco e il San Martino alle spalle è ovvio che facendo parte della stessa scuola si emulavano uno con l'altro anche se Leonardo nel trattato sulla pittura invita i pittori a non copiarsi uno con l'altro ma chiaramente rappresentavano tutto quello che direttamente ognuno di loro ha potuto vedere lo stesso Leonardo nell'annunciazione in cui si auto ritrae si pone davanti alla città di Lecco se no lo vediamo dopo quindi nel 72 Leonardo dichiara di essere già lì in realtà non ce n'era bisogno come abbiamo visto perché ci sono fior fior di documenti che lo testimoniano e che questa montagna sia San Martino e la città di Lecco lo testimoniano i due pizzetti che sono inequivocabili ok poi per chi è cresciuto come me a Lecco queste montagne le vede tutti i giorni e non è un problema ma per chi cioè tutti ha letto i promessi sposi cimeno uguali a chi è cresciuto tra di voi è l'addio ai monti di Manzoni quindi la riconoscibilità di questi monti è fortemente testimoniata anche da altri personaggi che non sono solo Leonardo e questa montagna Leonardo continua a utilizzarla nella parte sinistra della Gioconda che è quello che vi ho fatto vedere prima che si vede esattamente così dalla rocchetta di Airuno e nella scenografia per l'Orfeo di Poliziano che è questa in cui la montagna che è San Martino si apriva in due e da una grotta al piede della montagna che è la grotta in cui Leonardo ambienta la Vergine delle Rocce che è sopra Alecco uscivano i vari personaggi della scena teatrale la rappresentazione dell'Orfeo è importante perché collega Leonardo all'orfismo cioè quella religione di mezzo fra il mondo egizio e il mondo greco per cui ci sono tutta una serie di rimandi che vanno oltre quel rimando con cui abbiamo iniziato della presunta abuso sessuale che avrebbe sofferto Leonardo in gioventù ma che non è un abuso sessuale questo è Leonardo giovane adesso non lo rifaccio perché l'ho fatto l'altra volta ma è lo stesso che si ritrae nell'uomo di Vitruvio è lo stesso che ritroviamo poi infinite volte se avete voglia basta andare a vedere le edicole di Orsanmichele ci sono due statue di Leonardo che vi guardano e nessuno lo sa e quella alle spalle è la città di Lecco che immagino avrete avuto modo di visitare qualche volta e questi portici sono ancora completamente visibili quindi i paesaggi di Leonardo sono essenziali perché perché i documenti non sono solo quelli scritti ma nel momento in cui come veniva fatto nell'arte rinascimentale c'è un realismo rappresentativo totale i paesaggi così come i personaggi rappresentati diventano documenti a loro volta il mio computer è estremamente addestrato per cui quando io dico paesaggi compare un amico mio il sex symbol della divulgazione scientifica italiana con cui ho una storia aperta e un giorno dirò perché a Ulisse re 3 nel 2017 ha detto Leonardo dipingeva paesaggi perché era nato in mezzo alla natura a di là del fatto che il padre si vanta del fatto che il figlio è stato bocciato in quinta elementare e che probabilmente ha studiato la dottoressa grazie al cazzo in realtà all'epoca era tutta natura e non ci si può permettere che un personaggio pubblico come Sgarbi come Angela faccia dichiarazioni di questo genere cioè la Gioconda era un puttanone lui disegnava paesaggi per carnato in mezzo alla natura sono follie sono derive che portano tutta la società in quanto essendo loro modelli a vivere di deriva infatti oggi non abbiamo più valori non abbiamo più cultura abbiamo deputati leghisti in Parlamento che hanno visto una riproduzione della Gioconda alla Camera e stanno facendo carte false perché pensano che sia una coppia della Gioconda autentica questo è il livello culturale del nostro paese ed è giusto così se continuiamo a proporre delle visioni distorte di quello che in realtà era e a disconoscere documenti e a privilegiare letture che sono delle letture totalmente parziali uscendo dalle dalle derive di Angelino Leonardo ha un approccio diverso completamente diverso nei paesaggi a seconda che siano disegni e a seconda che siano dipinti nei disegni cosa fa? quello che fa chiunque cioè utilizzava il disegno come diario di viaggio quindi vedeva una cosa la rappresentava sempre e comunque in maniera molto fedele non è vero che i pittori del Rinascimento rappresentavano i paesaggi secondo fantasia rappresentavano quello che vedevano quindi la scenografia dell'Orfeo di Poliziano è riferita la conca di Lecco ma viaggiando nei disegni di Leonardo si viaggia nel territorio che Leonardo ha conosciuto bene sin da quando era piccolo quindi le grigne viste da Milano ancora oggi le grigne viste dai pianderesinelli da molto vicino il resegone visto da Iruno cioè dalla rocchetta di cui vi ho parlato prima il resegone è quello che più dà l'idea del viaggio perché Leonardo lo rappresenta diverse volte con un'angolazione sempre diversa finché se lo trova frontale quindi dà proprio il senso della plasticità della dinamicità del suo viaggio il resegone visto da Cassano Dada dove è chiaramente molto più defilato i laghi che sono i laghi Brianzoli visti dall'alto del San Martino fino a arrivare a Sondrio a Torre della Sassella in realtà ce ne sono molti altri ma non era utile in questo momento fare una cosa di questo genere quindi se voi assommate tutti i paesaggi che Leonardo ritrae nei suoi disegni vi dà esattamente l'idea di come lui si è mosso nel territorio e se voi andate a verificare o vi fidate del fatto che io l'abbia fatto per voi riscontrerete che ogni singolo punto è in corrispondenza innanzitutto della viabilità di allora fatta di mulattiere in corrispondenza di fortificazioni di ostelli di castelli quindi tutti i punti in cui la viabilità era resa possibile e certa visto che comunque questa porzione del Ducato di Milano è una porzione estremamente delicata confine fra Venezia e Como che faceva parte dell'ambito svizzero e cattolico oltretutto hanno appena lanciato proprio gli svizzeri un progetto e lo chiamano il sentiero di Leonardo che riprende la vecchia via del Biandante che collega la Svizzera con Milano collegando anche questo pezzo che all'epoca non era assolutamente percorribile c'è una bellissima mappa è forse una delle prime del lago di Como fatta dal Giovio che è alla Braidense a Milano dove ci sono descritti in maniera molto minuziosa tutti i camminamenti e chiaramente quello non c'è questa è un'ulteriore mistificazione che viene fatta in nome di una speculazione l'anno prossimo dicevamo prima nessuno più si ricorderà di Leonardo ma in realtà Leonardo diventa il vettore per andare oltre le barriere della conoscenza e accedere alla conoscenza vera e propria diverso dicevo è l'utilizzo che Leonardo fa dai paesaggi al di là di Sant'Anna la Vergine il Bambino l'Agnellino che è la parte alta del lago e al di là di un paio di dipinti che sono nella zona della Brianza esiste solo un dipinto con paesaggio che non allude al paesaggio lombardo che è il ritratto di Ginevra de Benci così considerato ma in realtà è il ritratto di Ginevra Sforza moglie di Bentivoglio Giovanni de Benci in cui il paesaggio ritratto è quello retrostante Pesaro la valle del Foglia dove Ginevra Sforza è cresciuta tutti gli altri paesaggi afferiscono alla zona di Lecco io dal giardino di casa mia faccio 360 gradi vedo sette dipinti di Lecco sette dipinti Leonardo scusate Battesimo di Cristo Annunciazione li abbiamo già citati la Vergine delle Rocce perché ve l'ho richiamata prima e perché si collega a quell'episodio iniziale della Coda del Nibbio e quindi all'orfismo e al mondo egizio è la grotta di La Orca dove che Leonardo utilizza per far uscire i personaggi della scenografia dell'Orfeo di Poliziano questa è importante perché perché innanzitutto non nasce con l'iconografia che gli riconosciamo ma nasce come Madonna dei Fusi i Fusi rimandano al mito di Erd rimandano alla musica delle sfere celesti domani sera c'è una conferenza un evento qua a Firenze con la regione toscana dove si parla dei rebus di Leonardo quelli che noi abbiamo affrontato l'ultima volta chiaramente non nella stessa forma cioè con la solita cosa che Leonardo era un cazzone usava i rebus musicali per fare i giochetti Amor mi fa sollazzare quelle cose lì in realtà la parte preeminente dell'ascito culturale Leonardo è proprio la musica c'è un trattato di musica a Milano bellissimo alla biblioteca tribulziana ma c'è uno di questi rebus musicali che in realtà è un cano triplex che anticipa di tre secoli Bach quindi stavamo dicendo l'iconografia iniziale della Vergine delle Rocce è una Madonna dei Fusi che Leonardo fa diventare nella forma in cui noi conosciamo proprio per rifarsi al Nibio che è quella formazione rocciosa che sta in cima alla grotta quindi la Vergine delle Rocce è un percorso la grotta la Valca Lolden il Nibio e si arriva ai Pian dei Resinelli non è innaturale solo l'iconografia è innaturale anche la mano chiunque tratti arte vede nella mano di Leonardo che cinge Giovanni Battista una mano che sembra le mano di Crivelli molto allungate con le dita storte in realtà è una rappresentazione del Lago di Como è la prima rappresentazione del Lago di Como assoluta ce n'è una parziale e ce n'è un'altra che è quella del Giovio 1520 questa è la prima rappresentazione tra l'altro da Lecchese lo dico con vanto nel codice Leister che hanno presentato a Ottobre agli Uffizi Leonardo distingue tra Lago di Como e Lario e questa per noi Lecchesi e chi è di su lo sa è una distinzione molto importante che va oltre la rivalità fra paesi cioè è proprio un fatto culturale profondo di appartenenza a quegli schieramenti che stiamo raccontando l'ultima cena è il resegone il profilo degli apostoli dell'ultima cena descrive esattamente il profilo del resegone nell'iconografia o negli studi che Leonardo fa sulla ultima cena la disposizione è completamente diversa è circolare perché fa il resegone perché il resegone nella cultura milanese è fondativo della stessa città i Celti quando hanno fondato la città di Mediolanum hanno preso come riferimento astronomico proprio il resegone e c'è un elemento che è entrato nel regolamento edilizio di Milano che è la servitù del resegone fino alla fine dell'ottocento non si poteva costruire oltre il secondo piano in direzione Porta Nuova per non chiudere questa visuale che la città aveva con il resegone se voi idealmente togliete la parete su cui è rappresentata l'ultima cena all'epoca compariva il resegone quindi cosa succede diventa una regola Leonardo cambia l'iconografia dei propri dipinti in maniera anche innaturale talvolta proprio per nascondere all'interno del personaggio che ritrae i monti attorno all'ecco la gioconda visto che parliamo di un viaggio ipotetico fra donne gioconde promesse e spose la gioconda è l'apice e la gioconda è l'apice della sovrapposizione fra Leonardo e Manzoni uno dei tanti libri scritti che ho nel cassetto perché finché non ho come dicevo un editore all'altezza non li pubblico parla proprio di questo di questa sovrapposizione che questa sera toccheremo per arrivare a dire perché la gioconda non è la gioconda sempre chiaramente con dei riferimenti documentali quindi la gioconda lo sfondo sinistro è completamente diverso dallo sfondo destro sono disassati disassati la parte sinistra è più alta della parte destra ok se noi idealmente togliamo la gioconda l'acqua da sinistra defluisce come è nella natura le cose disunite si uniranno e riceveranno in sé tal virtù che renderanno la persa memoria agli uomini questa è la definizione che leonardo da del percorso iniziatico del matrimonio spirituale chiamiamolo come vogliamo quindi cosa fa con lo sfondo della gioconda unisce le cose disunite i due paesaggi fanno parte dello stesso paesaggio la gioconda è la rappresentazione del rebis leonardesco cioè la rappresentazione di se stesso al femminile in ordine a quella lettura delle cose disunite che si uniranno che è la rappresentazione del rebis di leonardo questo conservato oxford quindi la gioconda è la rappresentazione dell'unione degli opposti tutto nasce per legge di contesa dalle cose di scordi sgorga bellissima armonia eraclito non a caso bramante ritrae leonardo nei panni di eraclito è il primo dipinto che trovate quando entrate in pinacoteca a brera quindi la parte sinistra della gioconda e la parte destra della gioconda sono la continuazione dello stesso paesaggio ma di più sono due punti opposti di osservazione dal monte canto che è il primo monte che voi incontrate percorrendo la pianura padana arrivando verso l'ecco dove è nato giovanni ventitraesimo per intenderci vedete il corso dell'adda e sullo sfondo l'ecco specularmente e in fondo il san martino dal san martino vedete il monte canto specularmente quindi leonardo col paesaggio non fa altro che rafforzare il messaggio che all'interno della gioconda è contenuto cioè il rebis il matrimonio spirituale in realtà i paesaggi della gioconda sono otto tre a sinistra tre a destra la gioconda e le mani avanti questo ve l'ho raccontato qui siamo a Gravedona sono le punte di Dervio Olgiasca e Bellano la parte alta del lago dove il lago cambia direzione e entra in Valtellina la parte ancora più alta è questa rappresentazione che c'è ai campelli cioè quell'anfiteatro naturale che c'è e divide il ducato di Milano con Bergamo Venezia quindi nella gioconda Leonardo non sta altro che descrivendo il confine nord del ducato di Milano l'Adda il lago assegne e golfi il San Martino il resegone cosa ricorda l'unica giustificata è anni porca miseria lo zio Lisander il quale ha fatto il percorso inverso di Leonardo lecco Firenze Parigi quando i promessi sposi iniziano non iniziano che Leonardo conoscesse che Manzoni conoscesse bene il matrimonio spirituale è rappresentato dal suo ritratto ufficiale fattogli da Hayez lo stesso che avrebbe dovuto figurare i promessi sposi ma che poi si rifiuta motivo per cui Manzoni si affiderà a Gonin la mano destra fa un 4 la mano sinistra fa un 3 lo stesso fa Goethe la mano sinistra fa 3 e i bottoni sul pantalone sono 4 si può andare avanti all'infinito all'infinito il Mosè di Michelangelo è la gioconda di Michelangelo con una mano fa il 4 con l'altra mano fa il 3 e via e via e via perché è così? perché il 4 rappresenta l'elemento femminile e il 3 rappresenta l'elemento maschile questo non in una codifica umana è così in natura 3 al quadrato più 4 al quadrato cosa fa? 5 al quadrato teorema di Pitagora il 5 è l'uomo nuovo l'uomo rigenerato il Cristo che è il frutto dell'unione fra il maschile e il femminile cioè la gioconda prima vi ho detto che in quelle 10 immagini c'era tutto compresi i peperoni il peperone maschio ha 3 cucuzzoli il peperone femmina ne ha 4 tutto quello che l'uomo inventa la natura l'ha già creato quindi Manzoni conosceva bene queste dinamiche addirittura la lettura esoterica per non dire massonica del teorema di Pitagora è provvidenza volontà destino guarda caso sono i tre elementi cardine dei promessi sposi che non sono per nulla un romanzo cattolico sono un romanzo iniziatico come la divina commedia pensavate di sentire i peperoni eh quindi inizia il nostro viaggio inconsueto tra donne gioconde promesse promesse spose che va ben oltre ogni immaginazione e ovviamente ogni racconto ma questo è quello che io faccio ogni volta parlo di Leonardo parlo di rinascimento eccetera eccetera l'inizio dei promessi sposi racconta la gioconda quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti tutto a segni a golfi a secondo dello sporgere di rientrare di quelli viene quasi un tratto a restringersi e a prender corso in figura di fiume tra un promontorio a destra e un ampio costiere dall'altra parte e il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancora più sensibile all'occhio sta raccontando la parte della stragio sta raccontando l'Adda e il lago di Lecco ma è talmente dettagliato il racconto figurativo che ne fa Leonardo che sembra che sta raccontando la parte destra della Gioconda idem col passo successivo la costiera formata dal deposito di tre grossi torrenti Bione Gerenzone e Caldone il Bione è il fiume nei cui piedi è immerso il Cristo del Battesimo di Cristo per intenderci scende appoggiata a due monti contigui l'un detto di San Martino l'altro con voce lombarda il Re Segone il San Martino è la parte sinistra della Gioconda abbiamo visto e il Re Segone è nella a parte nei disegni nella formazione degli apostoli dell'ultima cena Leonardo disegna anche la pianta di Lecco questa l'ho trovata l'anno scorso sono riuscito a darne notizia con l'Ansa però come sempre finché non rompi la superficie è difficile accedere al mondo dell'informazione perché le notizie stupide fanno il giro del mondo ma quelle serie si fermano questa è la mappa di Lecco che ho trovato in uno dei manoscritti che ci sono all'Institut de France e che rappresenta la città ai tempi di Leonardo quindi a metà del Quattrocento è bellissimo girare l'Ecco con la mappa di Leonardo in mano si vedono scorci che altrimenti non vedresti ci sono sotto le case porzioni di fortificazioni ma è ancora più importante perché Leonardo disegna solo un'altra mappa che è quella di Milano si dice che disegna anche Imola ma è troppo accurata secondo me per pensare a un apporto solo leonardesco però Leonardo disegna solo due mappe che sono Lecco e Milano e questo conferisce ancora più valore a questa mappa e conferisce ancora più valore all'attenzione che Leonardo ha dato a Lecco ma non a Lecco in quanto tale Lecco in quanto ambito della sua esistenza e formazione perché è di formazione che stiamo parlando e di nuovo naggia la miseria l'anno dopo ha fatto due ore di trasmissione sul viaggio del mondo dei promessi sposi è riuscito in due ore a non citare Lecco ed è riuscito in due ore a fare rappresentazioni dei luoghi leonardeschi senza che corrispondessero ai luoghi di cui lui stava parlando qui siamo in Valsassina a Baiedo che è la porta naturale che definiva il Ducato degli Sforza sulla cui sommità c'era la rocca di Baiedo gestita da un castelliere tale Simone Arrigoni perché è importante per una serie innumerevole di motivi primo perché la rocca era facilmente aggredibile dall'interno motivo per cui su incarico del governatore a Milano che era Charles d'Ambois che poi lo porterà in Francia Leonardo riceve l'incarico di rivedere le fortificazioni di tutto il Ducato e si occupa anche di questa e e in un passaggio del Codice Atlantico parla proprio di questo Simone Arrigoni dileggiandolo perché poi è stato accolto dai milanesi in maniera sprezzante perché attraverso questa porta i francesi sono entrati e hanno dato fine al Ducato degli Sforza mettendo in condizioni Ludovico il Moro di scappare Ludovico il Moro non perché coltivava i gelsi ovviamente è Moro perché è figlio dei primi viaggi in America è Meticcio come Meticcio Lorenzo il Magnifico perché sono importanti gli Arrigoni in questo parallelismo perché la famiglia Arrigoni è antagonista della famiglia Manzoni tutte e due arrivano dalla Valtaleggio che è una valle attigua alla Valsassina e tutte e due diventano talmente ricchi nella gestione delle miniere di minerali per cui si contendono tutto il territorio se lo contendono a un punto tale per cui a un certo punto entrano in causa e quella causa fra la famiglia Arrigoni e la famiglia Manzoni diventa il canovaccio per i promessi sposi il palazzotto di Don Rodrigo era il palazzotto degli Arrigoni a Milano ah ecco quindi paradossalmente Leonardo ha conosciuto addirittura gli avi di Manzoni e continuando in questo percorso questo è il disegno della rocca dell'innominato vista dalla rocchetta di Airuno che gli sta proprio davanti esattamente tra le due colonne che sono le colonne della Gioconda quindi è un parallelismo che si fa sempre più pressante anche negli elementi biografici si dice che Leonardo è figlio legittimo Manzoni è figlio illegittimo è figlio del Berri del Berri Beccaria quindi è cresciuto in un ambito culturale molto forte è andato in Francia proprio per queste condizioni familiari non per altro quindi la Gioconda diventa ulteriormente l'elemento rafforzativo di questo parallelismo fra Manzoni e Leonardo infatti Pascal Cot che è un ricercatore francese che ha avuto la fortuna di analizzare la Gioconda su concessione del Louvre ha scoperto che attorno alla testa della Gioconda ci sono tutta una serie di abrasioni abrasioni operate dallo stesso Leonardo chiaramente Pascal Cot che è un francese cosa dice sono degli spilloni che servivano alle donne del Rinascimento per farsi belle ma Pascal Cot non può riconoscere una cosa che è evidente a chi è cresciuto tra la Brianza e la Svizzera italiana cioè che questi sono gli spadini della Sperada cioè quella conciatura con cui Lucia Mondella diventa famosa che diventa un mezzo sociale per comunicare la propria condizione di promessa sposa e di nuovo torna il matrimonio e sapete come nasce questa usanza proprio negli anni in cui Leonardo dipinge nel triangolo lariano qui siamo tra il 1480 e il 1490 e l'aureola diventa una raggera chiaramente a rappresentare la condizione di elevazione spirituale corpo sottile di luce tutto quello che vogliamo quasi acquisa dei raggi di un'aureola come ancora usano le contadine del milanese così scrive Manzoni quindi questa è Lucia Mondella disegnata da Gonin ma cosa fa Lucia Mondella cioè cosa fa Manzoni visto che cresce nel mondo del l'ambito iniziatico europeo di metà ottocento su cui si fonda poi lo Stato italiano l'unità d'Italia è la volontà di questi circoli iniziatici non si rifà alla regina della notte flauto magico di Mozart rimando egizio nuovamente ritorna all'Egitto che ha con Lucia Mondella la stessa lo stesso incarico iniziatico della regina della notte una nei confronti dell'innominato la famosa conversione dell'innominato che è forse il punto più alto dei promessi sposi e l'altra con Sarastro no Manzoni si rifà alla gioconda che vedeva esposta nella camera da letto di Napoleone ancora non vi ho detto niente ancora non vi ho detto niente perché se Manzoni si ispira alla gioconda Leonardo a chi si ispira per fare la gioconda al luogo in cui il lago da due diventa uno il promontorio di Bellagio allorché di due farete uno allorché del maschio e della femmina farete un unico essere sicché non vi sia più né maschio né femmina l'androgino allora entrerete nel regno dei cieli se voi vi focalizzate non sembra una donna e Bellagio è fondamentale nella storia del Ducato milanese oggi è sede della fondazione Rockefeller ma lì Ludovico il Moro trova rifugio quando scappa a Innsbruck scacciato dai francesi e spesso volentieri Leonardo veniva ospitato dal conte stanca non lo so questo è un pezzettino di quel racconto a cui facevo riferimento prima che è infinito veramente è infinito c'è da quasi quasi niente perché poi non esiste però veramente è una ricorrenza continua infinita fra questi due personaggi quindi veniamo al sodo tutto ciò premesso quindi tutti i riferimenti al territorio a quello che rappresenta eccetera eccetera vediamo perché la Gioconda non è la Gioconda e siccome la telecamera si è fermata lo saprete solo voi per adesso scrive il Vasari motivo per cui noi oggi la chiamiamo la Gioconda prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Mona Lisa sua moglie e quattro anni penatovi lo lasciò in perfetto la quale opera oggi appresso il re Francesco di Francia in Fontainebleau e in questo di Leonardo vi era un ghigno tanto piacevole che era cosa più divina che umana a vederlo e era tenuta a cosa meravigliosa per non essere il viso altrimenti due sono due sono gli elementi che fanno propendere per la Gioconda il ritratto della moglie del Francesco del Giocondo e questo benedetto ghigno beffardo per cui tutti hanno pensato che il Vasari stesse descrivendo la Gioconda primo quattro anni penatovi lo lasciò in perfetto in realtà in perfetto non è è molto dettagliato dettagliatissimo addirittura ci sono nella parte destra delle formazioni piccolissime rocciose che se voi andate o venite con me al forcellino ai pian di Resinelli le ritrovate proprio in quella realismo rappresentativo di cui Leonardo era maestro in secondo luogo Vasari non si limita a questo va oltre nella descrizione fa riferimento alla peluria delle sopracciglia e fa riferimento alle fossette sulle guance ma quella che tutti pensano essere la Gioconda non ha né la peluria sulle sopracciglia e né le fossette nelle guance soprattutto scusate perché voi avete perso quello che vedete all'interno dell'occhio è un oxantelasma di cui Leonardo soffriva e che permette di ricostruire o di ritrovare tutta una serie di ritratti che fanno capo a Leonardo il ritratto di musico la sanguigna l'uomo vitruviano tutti con questo xantelasma che è un accumulo di colesterolo di cui Leonardo soffriva soltanto una persona se ne ha accolto che è un medico giapponese che nella deformazione professionale è andato a vedere vicino ha detto c'è un oxantelasma la gioconda soffriva di ipercolesterolemia perché chiaramente non riusciva arrivare a dire che era il ritratto di Leonardo ma questo è uno degli elementi per cui possiamo affermare che questo ritratto rappresenta Leonardo nel suo rebis ce n'è un altro che vediamo tra pochissimo stiamo quasi finendo quindi stavo dicendo è chiaro che il Vasari non fa riferimento alla gioconda una conferma indiretta la otteniamo da un appunto che è stato trovato recentemente a Heidelberg fatto da Agostino Vespucci che era un notaio fiorentino nel 1503 dove dichiara che la gioconda è già finita cioè la gioconda è intesa come ritratto della moglie di Francesco del giocondo ma tutti ci raccontano che Pedretti non mi viene neanche più il nome di quell'altro la tua amica taglia la gamba tutti ci raccontano che non ti avevo ancora detto niente oggi tutti ci raccontano che la gioconda viene fatta tra il 1504 e il 1506 in realtà probabilmente la gioconda quella che tutti chiamano gioconda è fatta prima del 1499 perché dalla moda del vestito si ritiene che potesse essere facente parte ancora del Ducato degli Sforza e quindi prima dei francesi però interessa relativamente un ulteriore aiuto ce l'ho da Antonio De Beatis di nuovo che è quello che è andato a trovare Leonardo con il cardinale d'Aragona e che fa riferimento a quella visita a Leonardo e parla di tre dipinti uno su istanza di magnifico del magnifico Giuliano De Medici che non può essere la gioconda e gli altri due sono un Giovanni Battista e la Madonna e il figliolo con Sant'Anna quindi il De Beatis vede tre dipinti ma la gioconda non c'è al di là del fatto che a quell'epoca si conoscevano e quindi se vedevano il ritratto di una dama di corte la sapevano riconoscere non di una cortigiana di una dama questo è uno degli ulteriori elementi che ci fa propendere per il fatto che la gioconda è il ritratto al femminile di Leonardo perché il De Beatis fa riferimento alla menomazione di Leonardo alla mano destra motivo per cui non dipinge più su questo ci hanno fatto uno studio dei medici italiani a Londra due settimane fa la notizia l'ha battuta il mondo intero ma azzeccandoci hanno sbagliato completamente perché hanno preso un disegno del figino che poi la rappresentazione di Eraclito e Democrito quindi fatta al contrario quindi la mano destra diventerebbe la mano sinistra hanno fatto su un puttanaio infinito ma Leonardo soffriva di un ganglio artrogeno che è quello che gli ha bloccato la mano destra motivo per cui secondo il De Beatis non poteva più dipingere sed estremane o mancino perfetto fai che metti la mano sinistra sotto la gamba ok scrivi ce la fai giusto perfetto Leonardo era quindi la mano destra cazzo c'entra il Louvre riconduce l'acquisto della Cioconda al 1518 unitamente a Sant'Anna e San Giovanni Battista cioè quei dipinti citati dal De Beatis i quadri furono acquistati da parte di Francesco I con la mediazione del Salai che non è l'amante di Leonardo ma è il figlio milanese per suo creato scrive Vasari secondo una ricevuta reale ritrovata negli anni 90 nella biblioteca braidenza a Milano quando Leonardo muore nel testamento non lascia alcun dipinto quindi quelli sono e della Gioconda non si fa menzione ma perché nasce il mito di sta Gioconda abbiamo visto prima il Vasari perché il primo a chiamarla Gioconda è Cassiano Dal Pozzo in occasione di un suo viaggio in Francia nel 1625 e affibbia il termine Gioconda al dipinto visto in Fontainebleau che con buona probabilità è quello ora esposto al Louvre ma che non ha nessun collegamento con la moglie di Francesco del Giocondo fino ad allora il termine era associato a un dipinto nelle mani di Salai è menzionato un inventario del 1525 cioè quando Leonardo è già morto come la onda non la moto quindi non c'è nessun riferimento al fatto che quel dipinto che tutti quanti vanno a celebrare tutti perché poi non parlo solo dei comuni mortali parlo di Banksy parlo di Warhol parlo di Botero Duchamp non c'è nessuna certezza con relazione documentale nelle parole del De Beatis che certifica che quello esposto al Louvre sia il dipinto che il Vasari aveva chiamato Mona Lisa anche perché comunque abbiamo visto che il dipinto che tratta il Vasari è tutt'altra cosa quindi mi verrebbe da dire i francesi ma il mondo sta celebrando una cosa che non è è come vedere Liverpool Tottenham pensando che la Juve vinca la Champions c'è sempre un momento interista in tutte le conferenze mi spiace solo che Zanga adesso si è buttato in una cosa su Leonardo bisognerebbe fargli capire che forse è il caso di spendersi diversamente quindi la Gioconda è una mera presunzione e allora nuovamente presunzione per presunzione creiamo una presunzione un po' più realistica fermo restando che la Gioconda non è la Gioconda il giorno dopo il De Beatis torna a Blois e trova tra i dipinti che stanno per essere spediti a Fontainebleau un quadro dove è pintata ad olio una certa signora di Lombardia di naturale assai bella ma al mio giudizio non tanto come la signora Gualanda che era una cortigiana degli Aragona quindi usava questa Isabella Gualanda come paragone però c'è una signora di Lombardia fra i dipinti che il De Beatis vede e allora per tutto quello che vi ho esposto fino adesso tutti i collegamenti del paesaggio il collegamento sostanziale della Giaconda la Sperada il rimando a Bellagio che sembra una signora eccetera 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 è molto più plausibile che la signora di Lombardia sia quella che il mondo chiama Giaconda ma che Giaconda non è al solito poi cambia a seconda delle date diventa la signora di Lombardia Bellagio la Giaconda quando io racconto queste cose il mondo ortodosso accademico mi prende per pazzo e disconosce degli elementi che sono fortemente documentali molto più documentali delle ricostruzioni ortodosse che documentali non sono e quindi citando Baudelaire ti prenderà per pazzo chi non udendo alcuna musica ti vedrà danzare e come sempre chiudo i migliori sono tutti matti grazie a tutti